La prima è la discesa, le due scelte, 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 forse, anche se a colpa vista chiaramente tutte le due parti, sarà pensato meglio avere il catalogo a tendere qualcuno, se ne pare a tutta la discesa, ma credo che dentro di sé sappia avere l'aspetto, il pericolo si sta inbagliato, in quel trato di campionato, ma non sta correndo per vincere la tappa, sta correndo per essere il protagonista, che è diverso, se si sa che è complicatissimo, potrebbe arrivare in quei 22 km di anni dove si scatenerà la pagana, anche tra i grandi, gli scalatori di Dio Giorgino, e lui pur essendo in forma, insomma, non è chiaramente competitivo quando scatta per salita, il Titane, il Pozzolino, il Durant, il Yaru, il Sotto, ma una chance non glielo voglio fare, no, ma io me lo auguro, io me lo auguro, facciamo il tipo per lui, ma sta facendo, insomma, sta correndo per essere il protagonista, ed è il grande protagonista finora di questa tappa, ha speso per andare a conquistare la cima a tutti, ha speso per andare a barruccare in discesa, sta spendendo ora moltissimo per cercare di prendere le due rampe che portano verso Val Martello, con l'invantaggio più ampio possibile, obiettivamente, un punto e 40, un po' pochino. Anche noi ci stiamo avvicinando all'inizio della salita di Val Martello, allora è il momento di lanciare l'ultima parte della nostra diretta, è il momento di andare con la sigla di Giro, all'arrivo. Rai Sport, con la partecipazione di Estatè, bevanda ufficiale del Giro d'Italia, presenta Sì, bevanda ufficiale del Giro d'Italia, presenta Sì, bevanda ufficiale del Giro d'Italia, presenta